Prima e dopo, padre Poiane, in questi undici anni, il santo non è più lo stesso, il santo è diverso. In che cosa è cambiato il santo? Sì, sicuramente sono stati undici anni in cui si è seminato molto proprio in termini di apertura. L'apertura alla dimensione civile, quindi questo dialogo profondo con la città, nel senso anche più ampio del termine, che poi vuol dire anche con i comuni con termini, con tante altre realtà, pensiamo anche a due realtà come Anguillare e Campo San Piero che sono intimamente legate alla vita del santo. Questo dialogo che appunto si è espresso nel Giugno Antoniano, ma si è espresso in ogni occasione in cui anche un semplice restauro diventava un momento, come dire, di racconto alla città e questo padre Enzo teneva molto perché quella fresco, quell'opera in qualche modo raccontava di un impegno intanto dei massari del passato, così si chiamavano quelli dell'arca, nel proporre le migliori opere d'arte per accompagnare i pellegrini nell'incontro al santo con il corpo di Sant'Antonio. E dall'altro anche una riscoperta di carattere storico-artistico di cui forse la città aveva e ha profondamente bisogno. Grazie a tutti.